Ciao ragazzi, un salutone a tutti voi. Io sono Pasqui e oggi vi faccio vedere l'unboxing di un nuovo gioiellino, sempre di casa Xiaomi. Ormai... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ho perso il conto, ho perso il conto di tutta la serie dedicata al Mi 9. Ebbene sì, volevo mimetizzarlo ma forse non ci sono riuscito. Entra nell'inquadratura adesso. Lui Mi 9 Lite, un dispositivo che pesa meno di 180 grammi, ha una batteria super capiente da 4000 mAh, display da 6.39 pollici Full HD Plus AMOLED, Snapdragon 710 a bordo, 6 giga di RAM LP DDR4X e ben 128 giga espandibili. Design integrale in vetro. Una definizione del display di ben 403 ppi, protetto da vetro Gorilla Glass 5. Abbiamo poi una tripla fotocamera da 48 più 8 più 2 megapixel. Cosa volere di più da un medio gamma che si aggira attorno ai 250 euro? Secondo me, niente. Io provo ad azzardare già l'idea di un Best Buy ancora prima di provarlo. Lo sapete che io di solito non lo faccio, ma stavolta secondo me è davvero un device che in questa fascia di prezzo ha un senso. Ma non tergiversiamo oltre e subito dopo la sigla lo spacchettiamo insieme. Eccoci qua per il nostro unboxing. Ringrazio prima di tutto Nicola di Mustman che è stato disponibilissimo e velocissimo nel mandarmi questo device che è davvero molto molto interessante. Trovate già delle offerte clamorose per la versione 628 che è quella che abbiamo noi, colorazione aurora blu, Mi 9 Lite, vi ricordo. Su mustman.net trovate questo dispositivo con uno sconto del 12% sul prezzo di listino, la versione da 628, con il nostro codice sconto coupon MENO5CENADEALS che scriveremo in descrizione. Mi raccomando iscrivetevi al nostro canale di offerte perché lì trovate tutte le offerte migliori compresa quella di mustman.net che ripeto con il nostro codice sconto va a costare solo 259,90. perché avrete uno sconto esclusivo di 5 euro. Accettano Paypal, accettano contrassegno, consegna in 24-48 ore, è una garanzia. Avete velocità, efficienza e qualità. Grazie ancora a Nicola. Detto questo procediamo con il nostro unboxing perché voglio vedere come è fatto questo ennesimo nato della serie Mi 9. Intanto lo mettiamo da parte perché come ogni unboxing che si rispetti c'è da guardare prima la confezione. Eh lo so, la scimmia è già sulla spalla però la teniamo tranquilla per un pochino. Andiamo a vedere cosa c'è in questa scatola. Le solite cose ragazzi, tupperello che non vado nemmeno a togliere, custodia in TPU trasparente e dopo andremo a provare morbida. Le solite custodie che sono in confezione Xiaomi. Tranne che per i top di gamma per i quali invece sono inserite delle custodie migliori e più rigide. Vedi quella del Mi 9T Pro. Vediamo cos'altro c'è. Manualistica per quanto riguarda la garanzia che ricordo è due anni su mastermind.net. Mi 9 Lite la guida con tutte le lingue disponibili comprese l'italiano perché questa è la versione neanche da dire global. E si vede anche dal caricatore che è europeo. Supporto alla ricarica rapida Quick Charge 3. Cavetto USB USB Type-C e adesso finalmente andiamo a vedere il nostro Mi 9 Lite colorazione blu. Lo andiamo a spellicolare. Guardate che bel colore e soprattutto che bel riflessi. Mi ricorda molto il tipo di effetto del Huawei P30 qua dietro. È molto molto simile. Questo blu è addirittura ancora più sgargiante, ancora più luminoso. Diciamo proprio che brilla. Davvero bello l'effetto. È stato realizzato con diversi strati di materiale che sono stati assemblati uno sopra l'altro in modo da rendere questo effetto onda. Vedete? Creano delle onde di luce davvero gradevoli da vedere. E il colore stesso molto bello. Proviamo subito la sua coverina per vedere come calza. Display già dotato di ditate. Beh, è perfetta. Calza a pennello. Sembra quasi che non ci sia. In effetti questa protezione non è abbastanza. Se sapete di avere le mani scivolose. Comunque l'oggetto in sé non è molto scivoloso. Non è proprio quell'effetto strasaponetta. Il grip è abbastanza buono. Assomiglia molto a un Mi A3. Forse leggermente più largo. E a tal proposito parto subito dicendovi le misure. Mentre lo accendo. Vi ricordo che è dotato di Android 9 Pie e MIUI 10. In attesa che esca la 11. Che dovrebbe uscire davvero a breve. Il peso è di 179 grammi e le misure sono 156,8 x 74,5 x 8,67 mm di spessore. Il supporto alle SIM corrisponde a due nano SIM. Espandibile fino a una microSD da 256 ulteriori giga. Noi abbiamo la versione di 6 giga LPDDR4X e 128 interni. Compatibilità GSM quad band 850, 900, 1800 e 1900 megahertz. HSPA plus LTE. E abbiamo la velocità di download massimo 800 mega e upload a 150 mega. Snapdragon 710 a bordo. Octa core quindi 2 core a 2.2 gigahertz. E 6 core a 1.7 gigahertz. Scheda video Adreno 616. Dietro abbiamo un vetro stondato ai bordi, effetto grip massimo. Sotto speaker di sistema USB tipo C 2.1, microfono. Lateralmente solo il carrellino delle SIM e l'alloggiamento per la microSD. Sopra, bella sorpresa, c'è il jack da 3.5. Infrarossi e microfono per la soppressione dei rumori. Perciò potrà farvi anche da telecomando. A destra invece ci sono i classici pulsanti messi tutti da un lato, on off e volume in un unico bilanciere. Dà l'idea di essere molto compatto e ha un aspetto sicuramente premium. Il design mi piace molto, anche se devo dire che ormai ci siamo abituati tutti a vedere le fotocamere messe in modo laterale. Il frame laterale a me sembra di alluminio per quello che percepisco al tatto. Presente anche l'NFC, cosa davvero che finalmente Xiaomi ha capito di dover implementare e questa è un'ottima notizia. Supporta la banda 24G LTE 800 MHz. Allora le fotocamere. 48 megapixel con apertura f1.79, Sony IMX 586, più 8 megapixel grandangolare, più 2 megapixel per la profondità di campo. Il modulo da 48 megapixel ha un autofocus a rilevamento di fase, LED flash, invece la fotocamera frontale è un sensore da 32 megapixel con apertura f2.0. Andiamo a vedere se troviamo nel manualino, perché ci dovrebbe essere assolutamente, i valori SAR del dispositivo. Perché credo che sia un'info che bisogna dare su tutti i telefoni. Ci sono le info dei valori SAR. Valori SAR per la testa 1.42 Watt a kg e valori SAR per il corpo 1.40 Watt per kg a una distanza di 5 mm. Intanto guardiamo questo bel display AMOLED e cominciamo ad accedere all'interfaccia che è la solita MIUI che non vi sto neanche a far vedere perché ormai la conosciamo come le nostre tasche. metto regione Hong Kong, mi chiederete perché, perché posso scaricare tutti i temi, cosa che se metto Italia non posso, va a connettermi al mio extender Xiaomi Plus. Mi piace molto il feedback della vibrazione, bello secco e deciso. Questa è una cosa che io guardo molto, il feedback della vibrazione. Io penso già, ragazzi, che un dispositivo di questo tipo, leggero, con una batteria capiente, con uno schermo AMOLED, con un buon processore, con un'ottima fotocamera, ha circa 250 euro. Io direi che più Best Buy di così non c'è. Questo, secondo me, è un degno rivale del Mi 9T. Se non volete la camera pop-up, potete propendere per questo. Ovviamente il Mi 9T ha un processore, secondo me, più performante, uno Snapdragon 730 che forse spinge un po' di più. Ma nell'utilizzo quotidiano sono convinto che tra il 710 e il 730 non ci siano assolutamente differenze. Quindi se volete il gotch e non volete la camera pop-up, volete comunque uno schermo AMOLED, volete comunque una batteria capiente e un bellissimo design, questo, assieme al Mi 9T, sono i due medio gamma, secondo me, top del momento. Poi adesso arriveranno anche quelli della serie Redmi, ma io parlo di Xiaomi. Ormai Redmi si è divisa, anche se è sempre la solita casa che gestisce tutto, però dobbiamo considerarli due brand divisi. Vediamo se ci sono degli aggiornamenti. Una delle novità di questo Mi 9 Lite, questo logo Xiaomi, che si illumina. Comunque abbiamo stabilizzazione digitale, autofocus, touch focus, flash LED, HDR, geotagging, face detection, smile detection, video risoluzione a 2160p 4K, 30fps, video autofocus, slow motion a 960fps e videocamera frontale in full HD a 30fps per quanto riguarda i video. Anche lì abbiamo HDR, face detection e selfie panoramico, infrarossi, NFC e GPS, GLONASS, Beidou e Galileo. È davvero completo per essere un medio gamma. Il sensore, come detto, accelerometro, prossimità, giroscopio, bussola, impronta digitale. Mettiamo il nostro pin. Ok, l'impronta è sotto al display. Abbiamo un sensore ottico sotto al display. Quindi, davvero ragazzi, siamo a un livello di completezza eccellente. Lasciamo il suo, tutto pronto. Dotato di radio FM, viva voce, wifi direct, wifi hotspot e, come detto, una batteria non removibile da 4030mAh che cominceremo subito a stressare nel quotidiano. Adesso vi faccio vedere l'interfaccia, poi vi saluto e ci metteremo subito sotto alla prova di questo device che, secondo me, promette bene, bene, bene. Ma guardate che bel display. Siamo davanti a un bel AMOLED, una bella unità con colori non troppo saturi che a me piace tanto. Attiviamo il meteo. Geolocalizzazione, alta precisione, ok. Vediamo se aggiorna. Sì, ci ha subito identificati. Adesso sta già ripristinando le mie app. Andiamo a vedere le info sul telefono. Ci sarà senz'altro anche la luce LED, vedete? Molto carina questa opzione. Vediamo se arrivano delle notifiche e si illumina il LED. Vedete che adesso è diventato giallo. Ragazzi, sono state introdotte delle nuove funzionalità per quanto riguarda le impostazioni del display ambient. E questa è una bellissima notizia. Andiamo a guardare insieme il display ambient. Ci sono adesso queste possibilità. Indicazione della batteria, l'orologio, che si può andare a scegliere. Io scelgo quello classico perché riesco a leggerlo meglio. Se no, questi altri qua mi ipnotizzano. Guardate che roba. Sono belli, ma preferisco l'orologio classico. E si può scegliere se andare a mostrare gli elementi solo per 10 secondi dopo aver toccato il display, programmato come vi pare a voi, quindi stabilite voi il tempo, oppure sempre. Io ho messo sempre. Tanto comunque non soffrirà dell'effetto burn-in perché si sposteranno gli elementi sul display in stand-by. Adesso facciamo una prova a vedere se arriva qualche notifica. Vedete? Adesso c'è questo elemento che non andrà più in stand-by. Vediamo. E alla ricezione di notifiche appariranno le icone qua sotto. Questa cosa io l'aspettavo da un po' sulla funzionalità display ambient di Xiaomi. Perché era un po' fine a se stessa, ecco. Dovrebbe spostarsi da un punto all'altro, rimanendo comunque sempre fissa. Andiamo ad aggiungere intanto anche i dati volto. Fatto. Aggiunti i dati del volto. Adesso andiamo a vedere quanto mi riconosce velocemente. Ho attivato anche il doppio tap. È immediato, ragazzi. Lo sblocco è assolutamente istantaneo. Molto, molto bene. Le notifiche di Telegram vedo che sullo Always On Display non arrivano. Forse solo alcune Apple hanno implementato questa funzione. Sì, non tutte le app sono implementate per quanto riguarda le notifiche. Peccato. Per il momento solo telefonate, messaggi e WeChat, mi sembra di vedere. Le altre app vengono notificate con l'head o con la vibrazione. Per il momento comunque è tutto. Bello comunque questo display. Il bianco mi piace tanto. Vediamo se adesso YouTube è stato aggiornato. Alexa, raccontami una parte a letta. Bene ragazzi, l'audio è molto alto. Molto, molto buono. Saluto tutti gli amici dei gruppi Telegram, Malati di Smartphone, Bobax Group e il gruppo dello zio China This and Friends, Honor 20 e View 20 e tutti i gruppi di Ale, il grande e tutti voi che ci seguite. Mi raccomando, c'è il premio Fedeltà China This, continuate a seguirci, tenete conto dei vostri acquisti perché al raggiungimento di una soglia di 500 euro scatterà il premio. Il tutto dovrà essere documentato, dovrete essere iscritti al nostro canale di offerte e al nostro canale di YouTube. Mettete la campanella, iscrivetevi e condividete i nostri contenuti. In arrivo premi per tutti e noi non solo lo diciamo ma lo facciamo. Saluto anche tutti i nostri canali YouTube Partner, canale dello zio, Max Recensioni, Fonoblog Italia, Passione Smartphone e soprattutto ringrazio Nicola di Massman per avermi mandato Mi 9 Lite da provare, davvero promettente, al quale non manca nulla e si candida come uno dei best buy dell'anno per bellezza, leggerezza, completezza e soprattutto prezzo. Andate a vedere l'offerta sotto il nostro video in descrizione, faremo comunque la recensione completa perciò continuate a seguirci. Detto questo saluto tutti e vi mando un abbraccio, un mega salutone da Pasqui. Ciao!